Mi dispiace, mio padre non verrà Eh? Perché no? Deve lavorare Anche la mia mamma lavora, però ha deciso di prendere un giorno di permesso Senti, Sinfoni, tuo padre deve essere presente all'incontro Per lui è difficile avere un permesso, soprattutto ora che ho un nuovo lavoro Non dovete preoccuparvi per me, ne ho già parlato con la maestra e lei ha capito la situazione L'assenza di mio padre sarà del tutto giustificata, ok? Io so che ci tiene, ora che siamo diventate amiche voglio aiutarla Ma per farlo dovrò usare la magia Per risolvere questo problema ci vorrebbero due papà Certamente!